Benvenuti nel canale d'informazione Punto Ortona Ci troviamo allo stadio comunale di Ortona Oggi è il primo allenamento del nuovo allenatore dell'Ortona Calcio Si chiama Marco Sansovini Ha giocato con la Pescara Calcio È un attaccante Ha allenato già molti giovanili Adesso tenta la prima squadra in un campionato importante come l'eccellenza Presidente Rocco Iurici Come si è arrivati a questa scelta? Guarda, io ti dico la verità Il mister si è interessato a noi È venuto a vedere una gara Chiaramente noi abbiamo saputo del suo interessamento Lo abbiamo contattato E ci ha dato la disponibilità Vuole partire con la sua carriera calcistica da Ortona Questo ci fa onore Come ho detto ai ragazzi Perché vuol dire che comunque negli anni abbiamo lavorato bene E abbiamo lasciato una buona impressione Vicepresidente Carlo Luciani Questa scelta forse si doveva fare anche un po' prima Va bene Adesso è arrivato il momento Abbiamo deciso insieme con tutta la società di fare questo passo Ringraziamo mister Savini Che comunque l'anno scorso ci ha fatto vincere il campionato Ci ha portato in eccellenza Adesso siamo arrivati a questo punto E abbiamo deciso di prendere questo mister Che comunque è una piazza blasonata Ortona Quindi vediamo di fare bene Qual è stato il male maggiore di questa squadra? Perché non ha girato per il verso giusto? Ma purtroppo quando non arrivano i risultati Un po' per gli infortuni Un po' perché Per della sfortuna Un po' perché Purtroppo i risultati non arrivano L'Ortona non merita questa posizione in classifica Speriamo di riprendersi il prima possibile Presidente Rocco Iurisci L'Ortona non ha mai pareggiato Lei come se lo spiega? Guarda Sono situazioni particolari Perché in realtà noi abbiamo perso due gare Al 95esimo praticamente Quindi in realtà erano pareggiati Però un po' la sorte Un po' qualche sbavatura La partita è andata male Siamo stati sconfitti Però ripeto Noi abbiamo nove punti La classifica è corta Perché davanti abbiamo squadre a due, tre, quattro punti Stiamo vicini Quindi già tu magari con una vittoria Con un paio di risultati positivi Riesci a metterti già nel gruppone Adesso ripeto Io aggiungo alle parole che ha detto il vicepresidente Presidente Luciani Voglio ringraziare il mister Savini Per quello che ci ha dato Ci ha portato in eccellenza Dopo 15 anni Quindi noi possiamo solo ringraziarlo Adesso nel calcio funziona così Quando non ci sono i risultati È giusto cambiare un po' Anche per motivare meglio i ragazzi E anche noi società E quindi abbiamo scelto un allenatore di spessore Un allenatore che è vero Che non ha molta esperienza di allenatore Però è stato un grande calciatore Quindi conosce le dinamiche del calcio In mezzo al campo Come ci si deve muovere Qual è stata la partita più brutta Che ha disputato l'Ortona Calcio? Ma la più brutta è domenica Con Capistrello Noi non siamo entrati mai in partita Abbiamo preso subito due gol E poi alla fine Comunque i ragazzi erano entrati demotivati Poi c'era l'infortunio di Dragani Che comunque pesava sopra gli altri infortuni Assessore Paolo Cieri allo sport Oggi lei ha fatto gli onori di casa Al nuovo allenatore Marco Sansovini Era doveroso da parte mia come assessore Ma anche da parte di tutta l'amministrazione Infatti è venuto anche il sindaco Castiglione A fare l'imbocca al lupo al nuovo mister Sicuramente c'è anche da ringraziare Il vecchio mister Paolo Savini Perché dopo tanti anni Ha riportato comunque l'Ortona In una categoria degna di questa città Come l'eccellenza Infatti anche i tifosi ho visto che su Facebook L'hanno ringraziato Quindi ci tenevo anche io a ringraziare Paolo E ovviamente a fare l'imbocca al lupo Per questo nuovo proseguio del campionato Al mister Marco Sansovini Che l'ho visto, ci ho parlato Ha molti stimoli per poter lavorare con questo gruppo E penso che sicuramente farà bene Ha le giuste motivazioni per fare bene Anche la giusta esperienza Per riportare anche entusiasmo a Tortona Alessio Tompesi Lei è anche dirigente dell'Ortona Calcio Qual è il male di questa squadra? Secondo il suo punto di vista naturalmente Questa squadra non ha un male Questa squadra purtroppo Nelle partite che abbiamo fatto fino ad oggi Non è mai stata completa Quindi è una squadra che ha avuto sempre delle problematiche Per via di assenze Purtroppo dovuta a involture nel squalifico Secondo me è una squadra che con qualche elemento giusto a dicembre Con l'arrivo del nuovo mister possiamo risollevare Possiamo conquistare anche la salvezza Che sarebbe veramente un peccato poi non ottenere dopo Dopo quindici anni che la società è riuscita a recuperare Quindi sicuramente io sono molto fiducioso Lo ero anche prima Lo ero anche dopo la partita di domenica Mi va di ringraziare mister Savini Che io ho conosciuto per due mesi Stando qua da ormai due mesi È una persona veramente seria Umile Sinceramente mi dispiace tantissimo Perché è veramente uno di quei pochi allenatori Che sono rimasti con un cuore veramente grande La legge del calcio però è questa Non si possono cambiare undici giocatori Baga sempre l'allenatore È stato sempre così Alessio Sì purtroppo è vero È così anche se io al calcio al 5 Un anno cambiai dodici giocatori e non allenatori Però mi salvai anzi Arrivai a un punto dai playoff Adesso qui i numeri sono maggiori Quindi sarebbe difficile Però io ripeto Questo è un gruppo di ragazzi Eccezionali a livello umano Perché sono dei ragazzi educatissimi E veramente non c'è Diciamo il Tra virgolette il delinquente in campo Quindi sono tutti bravissimi ragazzi Anzi anche troppo E purtroppo adesso Abbiamo avuto delle problematiche Ripeto La società Stiamo cercando di rimediare a dicembre E io penso che Con l'arrivo di qualche ragazzo E con Marco San Giovini Riusciremo a tirarci fuori Da questo problema Assessore Cieri Abbiamo sempre il problema Qua allo stadio Dell'antistadio E il bagno riservato alle donne Sappiamo che lì Già in movimento Sta facendo delle opere di bonifica È così? Sì, proprio questa mattina Sono stato all'ufficio Dei lavori pubblici Stiamo cercando un attimino Di sistemare i bagni E poi Settimana prossima Ci sarà L'omologazione Questa mattina È venuto tra l'altro L'ingegnere Per l'omologazione Degli spalti E successivamente Anche l'omologazione Per il sintetico Lunedì prossimo Avremo questo incontro Con il nuovo ingegnere Vedremo di fare un progetto Per quanto riguarda L'antistadio Con un piccolo campo Da calcetto Eventualmente E vediamo anche Poter fare eventualmente Anche qualcosa altro Adesso non lo diciamo Però ci sono progetti Che insomma Per il 2023 Sicuramente Cercheremo di portare Come si dice Fino in fondo Benvenuto Ad Ortona Al nuovo allenatore Dell'Ortona Calcio Marco Sansovini Grazie Grazie del benvenuto Sono Sono veramente fiero Orgoglioso E voglioso Di iniziare Quest'avventura E ha tanta esperienza Sulle spalle Da calciatore È stato attaccante Quindi sa Che per vincere la partita Occorre fare gol Occorre fare gol E non prenderlo Quindi Solitamente Bisogna farne uno Più degli altri Quindi bisogna curare Entrambe le fasi Essere Essere accorti Essere determinati Ci vogliono tante qualità Per portare a casa I risultati Secondo lei Serve il pressing Tra i delettanti Nel campionato di eccellenza? Il pressing È una componente Del calcio Serve a tutti i livelli Assolutamente Che metodologia di gioco Le applicerà All'Ortona? Adesso voglio vedere Intanto prima i ragazzi Come rispondono In questi Oggi in questa giornata Nella giornata di domani E piano 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 deciderò Adesso sinceramente Vorrei focalizzarmi Più su dei principi Da trasmettere a loro Poi Il sistema di gioco Credo che siano Siano numeri Fondamentalmente Che poi lasciano il tempo Che trovo Una volta Secondo lei Esiste il lato psicologico Nel calcio? La testa La testa Conta più Di ogni altra cosa Come in tutti gli aspetti Della vita Il calcio Il calcio fa parte di questo E sicuramente Sì Siamo Il calcio è formato Da giocatori Da uomini Da persone Che hanno Dei loro Sentimenti E emozioni Perciò è normale Che il lato psicologico Sia preponderante Lei punterà molto Sul fare gruppo? Credo che ogni allenatore Fa punti Nel fare Nel fare gruppo Intanto Già ho visto Un gruppo Molto deciso E molto coeso E oggi Nel primo allenamento Ho trovato Una grande Predisposizione Al lavoro Quindi Sicuramente Questo è un punto Di partenza Che è molto importante E ha tanta esperienza Anche con i ragazzi Nelle vesti Di mister Sono bravi I ragazzi di oggi? Sì Sì Sono bravi Ma chiaro Che sono diversi Da quando ero ragazzo io Ma perché È la vita È la vita Che va così È normale Non è che siano migliori O peggiori Sono diversi Fosi stato ragazzo io Sarei stato Oggi Sarei stato come loro Però Trovo anche Tanta serietà Tanta applicazione In alcuni di loro Quindi Io quei ragazzi Mi ci trovo benissimo Come devono giocare Gli attaccanti Vicini Oppure ognuno Da una fascia E l'altra All'altra fascia E che è stato Centravanti Dipende da come Saremo schierati Dipende da chi Andremo ad affrontare Quindi Non è Non è così automatico O definitivo Il calcio è complesso Ci sono Tante dinamiche Tanti momenti Tante Tante situazioni Che sono diverse L'una dall'altra Ha fatto una bellissima carriera Da calciatore Vorrebbe farlo anche Da allenatore E questo Il suo progetto Sì Il progetto Sicuramente Tutte le persone È giusto Che siano ambiziosi Io lo sono E per adesso Come inizio Sono qui All'Ortona E sinceramente Spero di far bene Per poter crescere Sempre di più Punto Ortona La ringrazia E auguro Buon lavoro E soprattutto Benvenga Una bella salvezza Sicuramente Quello è l'obiettivo Principale Di tutti quanti Grazie Lavoro 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 Quella è la prerogativa Di tutto Certo Dallo stadio comunale Di Ortona È tutto Tommaso Tucci Edoardo Di Piero Per Punto Ortona